Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui su questo nuovo video ed oggi spacchetteremo le adrenaline oppure l'album commentiamo subito ragazzi vi ricordo che questo è il nostro primo video sul canale oggi con noi c'è pure l'amico di mio fratello Nicolò intanto che sta giocando a folle se volete giocare con noi ci chiamiamo Fede che è meno 88 tanti non è normale Fede continuiamo con il video andiamo subito qui ci sono tutte le carte normali le regole del gioco scusate qui ci sono i giocatori o giocatore A o giocatore B io ci ho il giocatore A insomma ci sono tutti i tipi di regole proprio come giocare uno contro uno a questa terrenaline poi poi ci sono due carte una del Napoli e una della Juventus cioè che sono il controllo gioco e la somma totale poi c'è la coppia imbattibile della Juve che ci sono Pjanic insomma ragazzi sta spiegando in questo piccolo libro tutte le carte e gli idoli le coppie imbattibili le coppie imbattibili il modo d'acciaio in questa terrenalina poi idolo Nainggolan che era della Roma poi era dell'Inter e era del Cagliari questo è un esempio lo so Pazzini idolo Egdal idolo poi ci sono i muri d'acciaio un muro d'acciaio è dell'Inter con Andanovic De Vraie Godine e Scherignan poi il muro d'acciaio della Juventus con Dell'Irta Banucci Chielline e Alessandro possiamo poi ci sono i guanti d'oro Meret in questo esempio Meret e Cragno poi ci sono i diamanti un esempio Pachetà Pinamonti e come si chiama questo? Milinkovic Milinkovic sì poi ci sono i i blitz c'è esempio Lazaro Lovitz della Roma e Hernandez Iron Man un tipo di ci sono nove card degli Iron Man per esempio in questo esempio è Chiellini poi c'è Deron e Kucca poi c'è i supererroi del Nava Fabio Ruiz Allen e questo di Alic poi i supereroi dell'Atalanta Ilic Ilicic Zapata e Gomez poi i supereroi della Roma Klyvert Wunder e Zagnolo le stelle le stelle Ruiz Ramagnoli e Correa qui ci sono qui ci sono tutte le carte i giochi online difensori centrocampisti e tutti comunque il giochi online e l'app gratuita per giocare nella Union Cup quindi se hai almeno 14 anni puoi parteciperi tornella della Junior Cup. Poi ci sono i top player, come se mio qua diceva, penso, questo è Cagliocon, dell'anno scorso? No, no, ah sì, qui è dell'anno scorso, Higuain, Zeko, Zigne, Immobile, Ronaldo e Icardi. Queste sono queste nuove, che ancora non sono stati svelati. Passiamo alle carte delle squadre, che è un giocatore per uno. C'è quelli più importanti, quelli più forti, quelli più significativi. I primi dell'Atalanta, Ilicic, Bologna, Osolini, Brescia, Totonali, Cagliari, Nainggolano, Fiorentina, Chiesa, Genoa, Crescito, Crescito, Ela Severona, Pazzini, Inter, Pesic, che ora è al Bayer Monaco, Ronaldo, della Juventus, Linkovic, Savic, della Lazio, Mancuso, del Lecce, Crescito, del Milan, Livali, del Napoli, Inglese, del Parma, Redu, della Roma, Cogliarella, della Sampdoria, Berardi, del Sassuolo, Pedaglia, della Spalla, Belotti, del Torino, De Paul, dell'Udinese. Poi qui ci sono tutte le limited edition, poi Buffon, Platymoon10, Cogliarella, Platymoon10, Platymoon10 e Danilo. Qui ci sono tutti gli allenatori, le limitate, tutti questi giocatori. Comunque passiamo subito al, comunque questo è qua dietro. Cominciamo con il spacchettamento. ragazzi se lo volete comprare questo costa 8 euro. Tutti e soli. Quindi aspettatevi ragazzi lo trovate in tutte le edicole di ogni città. E domani ci sarà un nuovo video su il box degli Adrenaline. Cominciamo. Vedete ragazzi il mio fratello. Se anche voi avete già comprato il pacchetto, uno qua ci escono delle carte. E ragazzi iscrivetevi anche al mio canale in cui faccio video di reaction nel caso dell'Aterrana. Qua troviamo l'album. Comunque cercate su YouTube... Fedefere e vi troverò i miei video su gli action che faccio da Tarnana e anche altri tipi di video. Comunque è sempre anche Fortnite. Quindi continuiamo con il video. Qui abbiamo la prima carta. L'ho trovato quando ho aperto subito l'album. Comunque è un po' Fortnite. C'è il tizio Undera e Allan del Napoli. Intendo qua ragazzi se non lo sapete è Tarnana e il Boschetto Bisunto già da una settimana. Aspettate ragazzi che prendo le carte dell'albogiorno. Ragazzi un consiglio. Non andate mai a Boschetto Bisunto. Allora continuiamo. Ora con lo spacchettamento. Ah qua non ve l'ho detto ci sta tutte le squadre e devi mettere l'itz sui giocatori che hai. Comunque cominciamo con lo spacchettamento. C'è Diavara della Roma. La prima carta. Questo spacchettamento. Anzi terza carta. Ehm comunque questo è il terzo spacchettamento perché ieri ho aperto due bustine. Diavara. Linetti. Luccioni. Pesedo. Ehm attaccanti. Ehm. Zazza e Belotti. Coppa imbattibile. Giriamo. Zemali. Zemali. Altro pacchetto. C'è. Audero. Schick. Che forse sta l'Ipsia. Non mi ricordo. Scorzarella. 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 Inglese. Che dovrebbe essere attaccato più forte per il Parma. Stavo già venne. Lugas Leiva. Idolo. Difensore. Vavro. Blitz. Della Lazio. Terzic. Pinamonti. Mandragola. Rincon. Questo. Ah sì. Quello che ci sta tutti gli anni. Tonali diamante. E ceppitelli. Idolo. Ma li amo. Ma come si fa male? Vabbè. Ultimo. Benultimo. Ah non ultimo. Ultimo pacchetto ragazzi. Comunque ragazzi. Se questo video vi è piaciuto. Intanto mettete like. Commentate se vi è piaciuto questo video. E commentate soprattutto con i vostri amici. Condividete con i vostri amici. Comunque c'è Znarabia. Zurkovski. Spalets. Spalek. Rajanai Golan. Uuuuh. Coppia imbattibile della Juve. Pjanic e Embracian. Skorupski. Idolo. Comunque se questo video vi è piaciuto. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Da me. Francesco. Grazie a tutti.